Potrebbe essere vicino a una svolta nel caso di Guerina Piscaglia, la donna scomparsa a Carraffaello nell'Aretino dal primo maggio scorso. Sembrano infatti compatibili con quella della donna, di cui si è persa ogni traccia e resti umani rinvenuti in una botola all'interno di una cappella nel cimitero di Sestino. L'altezza e anche altre caratteristiche strutturali corrispondono, ma per avere certezza ci vorranno almeno 5 giorni per i risultati delle analisi del DNA. A segnalare ai carabinieri che in quella cappelletta poteva esserci il corpo di Guerina sarebbe stata una sensitiva. Secondo gli inquirenti la donna potrebbe essere stata uccisa nel periodo della scomparsa e il corpo potrebbe essere rimasto un mese nel bosco per poi essere bruciato e occultato. Per ora c'è un solo indagato, padre Gratien Alabi, un religioso congolese accusato di concorso in sequestro di persona. I carabinieri starebbero lavorando in attesa degli esiti del DNA per capire chi potesse avere accesso alla piccola cappella in cui sono state rinvenute le ossa. Altro punto, le eventuali complicità che sarebbero state necessarie sia per la soppressione di Guerina che per l'occultamento dei resti.